Potrebbe, ma è il condizionale d'obbligo, essere un incontro cruciale, quello previsto per le prossime ore sulla vertenza GESIP. Un incontro che potrebbe mettere fine alla questione legata alla concessione degli ammortizzatori in deroga per i dipendenti della società partecipata per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2013. È stata concessa per quattro mesi lo scorso anno, affermato il sindaco di Palermo Orlando, non si capisce perché non debba essere concessa anche per quest'anno. A Roma ho incontrato il direttore generale dell'Inps, ha sottolineato Orlando, mi ha confermato che nulla impedisce dal punto di vista normativo di dare la cassa integrazione in deroga ai dipendenti. Nuovo faccia a faccia tra Orlando e Crocetta quindi. Dietro l'angolo però ci sono nuove proteste da parte dei rappresentanti dei 1805 dipendenti della GESIP che hanno sollecitato proprio qualche giorno fa davanti a Palazzo d'Orlean il governo regionale a fare la propria parte. Tutto questo per chiedere che l'impasse sugli ammortizzatori sociali si sblocchi. Allora Orlando ha lanciato nello stagno una rassicurazione. Ai primi di maggio tutti torneranno al lavoro ma i nodi da affrontare e da sciogliere sono ancora molti.